Benvenuti su MyFootballGersy. Con un allenatore come Mourinho e giocatori come Lukaku, Dybala, Pellegrini, la Roma attira su di sé tantissime attenzioni. Questa che vedete è la terza maglia in edizione, in edizione FAN! Pellegrini, la Roma attira su di sé tantissime attenzioni. La maglia non è niente male. Nera, mi piace tanto la striscia, diciamo così, in diverse tonalità, da rosso all'arancio all'arancio più chiaro. Il costo, lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione, ma fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Se volete saperne di più, trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, se volete vedere tutti i giorni video come questi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao!